Ciao amici, buongiorno! Oggi non sono a pesca ma sono a casa e cosa sono qua a fare? Sono qui a raccontarvi questa nuova rubrica che vorrei lanciare qua sul canale. Una rubrica un pochino diversa ma comunque già molto in voga in giro per gli youtuber italiani, non di pesca ma di altre cose, che è il vlog. Che cos'è il vlog? Il vlog dice la parola stessa, è un video vlog, quindi un racconto di una giornata, non solo il classico video che faccio didattico per raccontarvi un po' le mie esperienze in acqua ma una cosa un pochino più intima per raccontarci le giornate che passiamo insieme. E visto che in tanti mi chiedete spesso Quinta ma oltre ad andare a pescare cosa fai, magari vi racconto un'altra parte del mio lavoro, un'altra parte della mia vita oppure semplicemente qualcosa di diverso che fa parte di questo bellissimo mondo della pesca. Quindi oggi andiamo col primo vlog del Quinta. La mia mattinata quando non vado a pesca, poi vedremo, faccio come fanno tutti, si alzano la mattina, fanno colazione e iniziano ad approcciarsi al proprio lavoro. Buona parte del mio lavoro è legato a quel signore qui. Quindi io la mattina cerco di cominciare a entrare nel mondo della pesca, non solo quella italiana ma anche quella degli Stati Uniti o del Giappone. Anche perché gli americani fino a notte fonda continuano a lavorare perché qua è già notte mentre da l'ora è ancora giorno e i giapponesi il contrario. Quindi spesso i momenti io devo scrivere ai giapponesi entro mezzogiorno, non posso scrivergli al pomeriggio perché loro al pomeriggio dormono. Quindi la mattina cerco di svegliarmi abbastanza presto e cerco di cominciare a consultare il telefono e i social per vedere cosa è successo dall'altra parte del mondo per restare sempre aggiornato sulle news nel mondo del bus fishing. Cosa che a me piace molto, mi interessa tanto sapere cosa succede in tutto il mondo del bus fishing sia giapponese che americano. Quindi buona parte della mattina, non tutta la mattina ma una buona mezz'oretta la dedico a controllare social network, a controllare le email e a cominciare a capire quello che dovrò fare sia durante la mattina e quello che dovrò fare anche durante il pomeriggio in certi periodi. Buona parte del resto della mattinata la passo davanti a quel signore qua al pc. Ovviamente avendo un canale youtube e essendo sempre collegato con i social devo andare a controllare un pochettino tutto quello che è successo. Quindi annettiamo dei canali youtube che va tutto bene, come vanno le visualizzazioni, fare un po' di statistiche, controllare un pochettino qual è il prossimo video che dovrò montare qua sul canale. Anche perché mi sono dato un input, una cosa personale che è quella di fare un video a settimana. Tante volte non ci riesco però nei prossimi tempi vorrei cercare di riuscirci anche inserendo appunto questi vlog che raccontano un pochettino la mia pesca e come vivo la pesca a 360 gradi. Bene, una volta fatto questo, considerando che visto che ho qualche posto a due passi da casa, cerco di ottimizzare il mio lavoro la mattina e di fare tutto molto alla svetta. Perché almeno al pomeriggio voglio andare a fare una pescatina, nel senso che è la mia passione, è quello che mi piace, quindi lavorando nel mondo della pesca. La mattina cerco di essere più social e più legato appunto al lavoro che devo fare, mentre a pomeriggio cerco di fare le corse per mangiare un boccone al volo e per poi scappare a pesca di corse. Altra cosa molto importante è quella che lavorando per aziende del settore spesso devo fare ordini, magari devo fare la scelta dei prodotti e quindi la mia vita davanti al computer è anche molto legata a questo. Nel senso che setacciando i social, setacciando le novità che escono dall'azienda, dalle aziende giapponesi e americane con cui collaboro da tanto tempo, devo andare a vedere le novità che loro fanno, devo andare a vedere i nuovi prodotti che escono e girarli immediatamente all'azienda italiana, che è quella che importerà il prodotto con l'Italia, quindi dovrò fare una scelta dei prodotti, dovrò capire quelli che secondo me andranno bene o andranno male per il mercato italiano e anche soprattutto i colori, non solo la tipologia di marca, la tipologia di esca, ma dovrò anche andare a guardare se il colore può andar bene per le nostre acque, anche perché le aziende fanno tantissimi colori che vanno bene per tutto il mondo, ma non sempre vanno bene per le acque italiane, quindi grazie a quello che penso, grazie alla mia esperienza, cerco di prendere i colori migliori e di comunicarli al distributore italiano, questo per tanti marchi, per le canne, per diverse esche, per earth bait, eccetera, eccetera, quindi devo cercare di fare una scelta ponderata per non far spendere troppi soldi al distributore italiano, ma per fare contenti tutti i pescatori, me compreso. Ecco, vi faccio un esempio, come vedete, magari mi arrivano le palette, mi arrivano le tipologie di spinnerbait, mi arrivano le dimensioni dello spinnerbait, quindi in questo caso sono palette di ricambio, dove mi dicono, ok, abbiamo fatto queste tipologie di spinnerbait con queste, appunto, palette differenti, secondo te, per il mercato italiano possono andare bene, sì o no, sono intercambiabili, quindi servono per uno spinnerbait a cui si possono cambiare le palette e devo capire se queste dimensioni possono andare bene per la pesca italiana, sì o no, possono andare bene, sì, ok, però prendendole tutte, magari poi il distributore italiano mi dice, ma queste qua non le abbiamo vendute, eccetera, eccetera, quindi non è assolutamente un lavoro facile, bisogna fare delle scelte, non solo personali, perché io vorrei usare delle palette più grandi, ma le devo usare poi il mercato. Un altro tipologia di esca, tipo è questa, per farvi vedere, è uno shed, questo è uno shed che secondo me è molto bello, quindi quando ho fatto la scelta di questo prodotto qua mi piace veramente tanto, può essere usato come trailer per il chatterbait, può essere usato spiombato, può essere usato su alcune teste piombate, ma, ma, ahimè, ha un prezzo molto elevato, quindi probabilmente fuori dal mercato italiano, quindi io comunicherò all'azienda che questo prodotto, questo prodotto è ottimo, andrebbe molto bene per la pesca in Italia, ma il problema è che ha un costo molto elevato, quindi il distributore italiano deve capire se c'è mercato o no per acquistare questo tipo di esca. La cosa più bella, tante volte, sono i colori strani, no? Mi arrivano le nuove colorazioni dove c'è scritto questo è il nuovo colore, che subito apri un acchitto, io, essendo un pescatore, vi dico sì, lo voglio, è bellissimo, poi dopo devo andare a capire se un pescatore può andare ad acquistare, e questo poi fa anche un po' parte del mio lavoro, cioè cercare di far capire a chi mi segue che questo prodotto qua, a me piace molto, e quindi potrebbe andare bene anche per lui, no? Questo è un po' il concetto e la storia del mio lavoro fino adesso. E poi sicuramente la parte del video è molto importante negli ultimi anni, mi sono sempre più affezionato e appassionato al mio canale YouTube, e quindi mi vado a riguardare i vari video che ho girato durante le mie giornate di pesca, e vado a capire quali sono i pezzi da montare, quali sono i pezzi da smontare, e quindi le mie mattinate, come vi dicevo, passano davanti a un computer anche sul punto per questo, nel senso che cerco di capire e di trovare quali sono gli argomenti migliori per il mio canale YouTube, e per le storie di Instagram, e per condividere con voi la passione che a noi piace tanto. Ecco, una cosa che mi piace fare è quella di passeggiare nelle giornate in cui sono a casa, o almeno la mattina, quelle giornate in cui mi faccio una bella passeggiatina, mi sgranchisco un po' le gambe, anche perché il lavoro che faccio mi porta ad essere quasi sempre fermo, nel senso che sono in acqua, sulla barca magari, salvo che non porto il belly, oppure se pesco da riva, ma io pescando molto dalla barca perché è più comodo, e anche perché è più facile fare i video per voi, spesso voi mi chiedete, ma perché quinta tu giri in, fai sempre i video in barca, ne fai pochi da riva o in belly boat, beh, lo faccio perché è molto più comodo riprendere, da riva mi devo spostare cavalletti ripreso in grande casino, sto cercando di adeguarmi e sto cercando di farlo, però per adesso è meglio così. Sto cercando di farne sempre di più, anche da riva e anche dal belly, però come vi dicevo prima, fare dei video di alta qualità, anche utili comunque per tutti e fatti un pochino bene, tra virgolette, bisogna cercare di farli appunto con la barca, perché vengono anche un pochino più chiari. Sto lavorando per farne tanti anche da riva e sto lavorando per farne tanti anche in belly, però ci vuole un pochino di tempo, ci stiamo lavorando ma ce la faremo presto. Qui mi segue anche su profilo Instagram, sa che mentre cammino e mentre passeggio faccio delle storie su Instagram, quindi spesso mi trovate a passeggiare facendo storie su Instagram e raccontando le prime impressioni della mattina quando sono a casa. Inoltre, quando faccio queste mie belle passeggiatine, in mezzo alle mie campagne che vedete qua a due passi da casa mia, sentite il telefono che suona con le notifiche, faccio delle telefonate. L'ho anche lunghe, mi piace passeggiare e telefonare, perché mi tiene in forma e intanto faccio qualcosa di utile. Poi la mattina abbiamo la mente fresca e quindi ci raccontiamo un po' di cose e tanti progetti per il futuro. Quindi, la mattina il telefono è sempre con me o anche durante le passeggiate e a volte magari mi ascolto un po' di musica oppure inizio a fare 4-5 telefonate a raffica così il pomeriggio sono più libero per andare a pesca. Tornato dalla passeggiatina, come sempre, pieno di pacchi. Pieno di pacchi consegnati da spacchettare, da rimettere a posto. Come al solito, pieno di pacchi e devo anche andare a ritirare un pacco che mi è stato comunicato che è arrivato. Quindi adesso devo andare anche a prendere quello. Eccoci qua, ritiro pacchi. Visto che tante volte il corriere passa ma il quinto non è a casa, poi dopo devo andarlo a ritirare io direttamente. E questo è un regalo che mi avete fatto voi. Voi pescatori che occasionalmente mi mandate qualche regalino e io sono sempre molto emozionato perché uno non so mai cosa c'è dentro e due divento tutto rosso perché non so se me lo merito o no. Quindi mi mandate tanti regalini ogni tanto che mi arrivano dei pacchi a casa che dico ma da chi sono arrivati questi pacchi qua? Ma chi lo sa? E cosa ci sarà dentro? Ma chi lo sa? Alla fine apro e c'è un regalo di voi pescatori. Grazie mille. Io adoro i regali e adoro quando voi ragazzi mi regalate qualcosa e mi mandate dei pacchi a sorprese dicendo Quinte ti facciamo un regalo, grazie per i video e mi mandate dei regali. Adesso lo apriamo subito. Ecco qua che vado a spacchettare il mio pacchettino Prima leggiamo il bigliettino che dice Un ringraziamento speciale per i consigli sempre pronti e per il tempo che dedichi a far conoscere il nostro meraviglioso sport E adesso a me mi viene da piangere però non posso piangere durante un vlog Il mio primo vlog mi metto a piangere subito Grazie ai ragazzi di Bus Pirate che mi hanno regalato questi bellissimi cappellini Che ficata Eccomi tornato dalla passeggiatina Adesso vado a fare un paio di commissioni Eh sì effettivamente anche se voi non ci credete è la verità Anche Quinta va a fare la spesa per mangiare e per costruire le cose per la casa E poi una rapida preparazione Sono le 11 quasi Quindi avendo finito di fare tutto il mio lavoro E avendo fatto le ultime commissioni Al pomeriggio almeno 3-4 ore di pesca vicino a casa Non me ne aveva nessuno